Come vorresti che fosse il futuro? Lo abbiamo chiesto a chi questo futuro dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno. Noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti. Riconosciamo le speranze nelle idee e lavoriamo per dar loro una forma. Su queste ispirazioni abbiamo fondato il nostro lavoro, chiedendoci ogni giorno quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni. E la nostra risposta è quello che vorrebbero. Si può fare una poesia che parli di risparmio ed energia. Facciamo in modo che accada. Estra per un presente sostenibile.